Un altro saltatore in più per l'Inter sicuramente perché ha preso il posto di Figo Adesso vediamo un po' come si disporrano come 1, 2, 3, 4, 6 dentro l'area di rigore E poi c'è naturalmente Grussi Adriano, c'è anche Cordoba, palla dentro Adriano! 3 a 2, 46 sul cronometro, doppetta di Adriano, ancora un gol su calcio piazzato per il Milan 3 a 2, 46 sul cronometro, doppetta di Adriano, ancora un gol su calcio piazzato per il